Sì, la fusione sa da fare, almeno per i cittadini di Montegridolfo e Mondaino. Quelli di Saludecio invece ci hanno tenuto a far sapere di non essere proprio così d'accordo. Si sono chiuse alle 23 di domenica le urne a Rimini nella Val Conca, un referendum importante che segna la storia dell'entroterra riminese. Il risultato positivo darà infatti la luce al nuovo comune di Tre Castelli di Romagna. Nello specifico a Mondaino sono stati 412 voti favorevoli, il 69,48%, mentre il no ha convinto 118 persone, ossia il 30,52%. A Montegridolfo invece c'è stato un voto quasi unanime sulla fusione dei tre comuni. 405 voti sono stati dati al sì, pari al 92,89%. Il no invece ha conquistato solo 31 aventi diritto di voto, il 7,1%. Saludecio in questo caso fa la parte della pecora nera. La maggioranza dei suoi cittadini si è espressa contrariamente alla fusione. Si tratta del comune in ballo più grande con 2.585 elettori. Di questi il 58,23% ha votato no, mentre il 41,77% ha votato sì. Nel complesso i voti favorevoli hanno raggiunto il 62,5%, pari a 1.256 voti. I contrari alla fusione dei tre comuni della Valconca sono stati 751, ossia il 37,5%. La vittoria del sì è stata determinante nella creazione del nuovo comune, il cui nome, anch'esso scelto dai cittadini e con 393 voti, sarà Trecastelli di Romagna.